a questo punto facciamo allenare lui tanto stiamo là, facciamo fare il mercato a lui facciamo stare in dirigenza a lui facciamo stare un bel pezzo di cartone a questo punto tanto è uguale non c'è veramente perdere 3-0 la prima gol Verona certo che ce ne voleva io non pensavo di vincere oggi onestamente pensavo nel pareggio perché dicevo il Verona dai squadraccia si è visto onore al Verona ha fatto una partita bella e intensa e tutto ma hanno fatto 3 tiri 3 gol iniziamo con i caroselli del grande Verona perché è una squadra che tecnicamente parliamo di 0 tu sei riuscito a perdere 3-0 contro il Verona congratulazioni io do tutte le attenuanti del mondo, del mercato della squadra che mancano i tasselli io ho sempre detto l'anno scorso che questa squadra era forte ma è una squadra che poi se la rendi orfana di Zielinski la rendi orfana di Mario Rui e stiamo capendo Mario Rui che importanza aveva vedendo sulle fasce Spinazzola e Mazzocchi stiamo vedendo che cosa voleva dire avere un giocatore che sapeva crossare che sapeva imbucare che ti aiutava in costruzione stiamo vedendo che terzino avevamo che non era per carità niente di straordinario era un terzino che andava cambiato ma con un giocatore più forte se prendi Spinazzola che si è più adatto al gioco di Conte il ruolo di Mario Rui di rifinitore della squadra perché era il secondo rifinitore della squadra dopo Zielinski e tu li hai persi tutti e due hai perso i due rifinitori della squadra hai perso chi ti dava l'ultimo passaggio hai perso chi ti dava qualità chi ti dava qualità in uscita e qualità in rifinitura qualità nella tre quarti avversaria e nella tua mediana hai perso questa qualità e non l'hai sostituita perché hai il 3-4-3 quindi elimini un centrocampista tieni quella grande mediana che lo botti a Anghissà e io lo ribadisco lo botti a Anghissà non possono giocare insieme in una mediana a due perché sono due giocatori molto simili già in un centrocampo a tre sono un po' più forzati ma se interpretati in un certo modo con uno alla Zielinski vicino con uno alla Amsic vicino con uno alla Copmeiners vicino con uno alla Samarzic vicino è un centrocampo che se interpretato in un certo modo con magari entrambi un po' più bassi a liberare i terzini è un centrocampo che può avere un minimo di senso se lasci lo botti a Anghissà insieme al centrocampo e davanti la qualità te la deve dare Matteo Politano abbiamo smesso di campare perché le squadre vanno costruite con intelligenza quindi è una squadra orfana della qualità di Mario Ruezzirinski è una squadra orfana per questa partita anche di buongiorno abbiamo dovuto rivedere Juan Jesus in campo che per carità uno gli vuole anche bene Batuan un leader dello spogliatoio e tutto io l'ho sempre anche abbastanza difeso perché mi è sempre secondo me non era uno tra i peggiori l'anno scorso nella seconda metà sì ma sempre trovato che venisse attaccato un po' troppo oggi è stato imbarazzante oggi il primo gol è una roba che marcava marcava l'aria marcava l'aria cioè non capisco quindi orfana della qualità orfana del tuo miglior centrale e orfana anche di Ossimen e lo stiamo vedendo che c'era chi diceva che Raspadori che dire Simeone insieme potevano fare 40 gol si è visto si è visto come fanno 40 gol tutti e tre tre che nel loro prime nelle squadrette dove giocavano prima non hanno manco raggiunto i 30 gol in tre cioè va bene sì 40 gol in tre tanto non serve nessun altro siamo così equilibrati Ossimen no ma Ossimen non può giocare no ne va degli equilibri della squadra negli equilibri dello spogliatoio come fai a far giocare Ossimen lo spogliatoio poi si offende poi Manna in conferenza ci viene a dire che se non vendiamo Ossimen va comunque bisogna parlare con il ragazzo e va andrà reintegrato ha trovato una soluzione ma come lo spogliatoio e il gruppo rendiamoci conto che ancora una volta stiamo navigando nel buio ancora una volta siamo vittime dell'improvvisazione ancora una volta siamo vittime della via di mezzo come con Ancelotti io nei video di presentazione di Conte ero molto più positivo perché pensavo cavolo abbiamo uno che che ce l'ha sia dal punto di vista di rompere i coglioni in società sia dal punto di vista tecnico-tattico tecnico-tattico io lo riconosco è questa squadra è scarsa lo ribadisco che è una squadra forte quella dell'anno scorso ma se ci fai a togliere 3-4 giocatori cardine la squadra diventa scarsa il secondo tempo me lo fai pure senza Quara la squadra diventa ignobile ma non puoi perdere 3-0 col Verona quindi qui poi ci rientra anche però un problema del mister che fosse stato un altro fossero stati i tre dell'anno scorso mi sarei scagliato qui mi scaglio comunque perché non me ne frega niente ma con qualche remora in più sicuramente ma non c'è anche qualche problema là sicuramente perché non puoi perdere 3-0 la squadra è scarsa ripeto ma puoi mettere la squadra del Verona comunque con l'undici nostro del secondo tempo per quanto sia una cozzaia di falliti siamo comunque superiori non vuoi vincere col Verona è una squadra talmente scarsa che non può vincere col Verona pareggia porta lo 0-0 è una squadra che non riesce neanche a portare lo 0-0 perdi di misura eravamo qui tale e quale a fare gli stessi identici discorsi ma almeno non mi vedevo 3-0 in casa col Verona che per me poi libero di essere smentito è una delle tre candidate alla retrocessione di questa stagione poi vediamo come finiscono i mercati ma parliamo di una squadra che nella mia idea ad oggi finisce diciannovesima ventesima stiamo lì e abbiamo perso 3-0 non c'era l'attaccante non c'era il difensore non c'era questo non c'era quello non c'era quello non puoi perdere 3-0 col Verona non c'è non c'è attenuante che tenga esistono le attenuanti ma quando perdi 3-0 col Verona si annullano non esistono più io io sono oppasito perché non perché vedo sempre questa via media come dicevo prima pensavo che avessimo uno che rompeva che andava lì e sta pure rompendo ma è uno che è arrivato e ha caricato ha caricato perché hai voglia di dire non facciamo discorsi non facciamo discorsi lavoriamo lavoriamo però se mi viene a dire poi l'obot ganghissan una delle migliori coppie di centrocampo d'Europa che ho già nel video più o meno no neanche una delle migliori in Italia non dico è la peggiore perché vabbè ovviamente non è la peggiore ci sono i centrocampi serie A che sono imbarazzanti ma siamo sulla metà classifica probabilmente se la Lazio prende Folo Runcio che indusì Rovella Folo Runcio ma ci dà una pista al nostro centrocampo ma anche ad oggi Rovella che indusì Vesino è più follo ma mi prendo più quel centrocampo è più completo ha più gamba inserimento voglia a chi sa che oggi è il migliore in campo pensa te cammina sul secondo gol sta lì a guardare l'azione spettatore non pagante Lobotka è un altro che pure non si può mai criticare abbiamo messo il nuovo Mertens che è incriticabile Lobotka oggi partitaccia come col Modena e col Modena pure ho sentito gente che è stata capace di dire una delle poche note positive è stata Lobotka ma di che stiamo parlando ma di che stiamo parlando ancora una volta ancora una volta ancora una volta si fa un passo avanti e due indietro perché prendi Ancelotti e compri Malquitt prendi Conte e prendi Marin e prendi Spinazzola è sempre questo a sto punto e lo dico in maniera provocatoria ma lo dicevo anche prima di questa bella figura che abbiamo fatto Conte che l'hai preso a fare non hai fatto un mercato all'altezza perché se arriva Kilmour se arriva Nerish vediamo ma lo toglie il posto appolitano Nerish la fa la fase difensiva perché Conte devi comunque avere Conte è uno che Mazzocchi già l'abbiamo capito che sarà inamovibile Mazzocchi che non dovrebbe neanche circolare nel Napoli dovrebbe essere l'ultimo nel Napoli e forse è titolare fisso perché Conte ha bisogno di alcuni meccanismi politano ti fa la fase difensiva Nerish siamo sicuri che fa la fase difensiva giocherà Nerish o è solo un'alternativa o è solo uno che entrerà dalla panchina è inutile potenziare una panchina se non hai titolari perché giusto viva Dio che si fa la panchina ma giocando ogni sette giorni la tua priorità devono essere i titolari e tu hai un centrocampo di due doppioni uno un po' più tecnico uno un po' più fisico ma sono due doppioni non hai chi ti rifinisce le azioni non hai chi ti fa uscire bene palla dalla difesa non hai degli esterni all'altezza perché né uno né l'altro sono esterni all'altezza sono esterni che ti fanno finire entrambi decimi undicesimi sono esterni da Torino neanche perché il Torino c'ha Bellanova il Torino a Bellanova che è più forte sia di Spinazzola che di Mazzocchi quindi di che stiamo parlando abbiamo svenduto Zanoli per tenere Mazzocchi e questo mi fa anche pensare figurati quanto è scarso Zanoli cioè gong in panchina fisso poi entra certo è una roba inguardabile ma cioè ripeto ma perché l'hai preso Conte hai solamente alimentato la piazza che ci hai fatto semplicemente illudere perché poi ci stai presentando un mercato che si arriva Lukaku e vai e vai Lukaku tre anni che stiamo parlando del nulla cosmico una carriera di Lukaku che è il nulla cosmico tolto Everton i due anni dell'Inter di Conte però c'è Conte ma siamo sicuri che la minestra riscaldata va bene anche alla Juve quando Higuain torna dal prestito quando Higuain va al Chelsea e c'era Sarri e tutti quanti o Higuain con Sarri 36 gol ha fatto male al Chelsea e ha fatto benino alla Juventus certo lì era un contesto un po' diverso era sicuramente nella prima nella seconda donna nella terza donna della squadra perché c'erano Di Bale e Ronaldo per carità infatti non fece neanche così male però uno dice ah no arriva Higuain con Sarri oppure al Chelsea così fece male non è detto che si ricreino le stesse le stesse condizioni che si ricreino che si ricreino la stessa alchimia non è detto non è detto e parliamo di un giocatore che rispetto a quello di Conte ha quattro anni in più e quattro allenatori che non lo hanno e tre allenatori che non lo hanno allenato all'altezza perché l'anno all'Inter che ci aveva sicuramente il migliore tra i tre completamente scassato l'anno scorso ha avuto il signor Murigno ah proprio fisicamente stiamo parlando di zero totale e non cioè arriva Higuain così farà 12 gol due triplette col Venezia fa la sua esultanza provocatoria ci casiamo tutti quanti poi scompare con la Juve scompare con con il Milan con l'Inter con la Lazio con la Roma con la Fiorentina con il Torino con il Bologna e così via ancora una volta la luce va affidata solamente a Quara che è il giocatore per me più forte in Serie A ma in una Serie A che è scarsa quindi non stiamo parlando di un giocatore molto forte ma non di un giocatore non stiamo parlando di Messi è un giocatore che se gli metti già due uomini addosso è finita perché non li salta perché non non ci prova neanche più a puntarli poi è fortissimo è il più forte in Serie A lo ribadisco infatti c'è l'occasione poi che quello che non mi ricordi che era Ciacciua che si inventa la chiusura della vita quando poi esce per infortunio che pure non ci dice mai bene niente anche se la traversa vabbè non entrano mai poi ci si mette pure questo ovviamente ma a sto punto sì hai tenuto Conte grazie a Conte sono rimasti Quara e Di Lorenzo e vai Di Lorenzo se continua e vai che è rimasto Di Lorenzo meno male abbiamo il terzino più forte d'Europa Quara a sto punto arrivava italiano arrivava Baroni arrivava uno di questi qui che rimanevi sul vecchio progetto facevi un progetto nuovo tanto comunque stiamo svendendo la squadra a sto punto svendevi vendevi che era arrivata con l'offerta di 200 230 milioni dal PSG per Quario Simen facevi il bel pacchetto li mandavi via e ti rifacevi la squadra cedevi anche tanta altra gente ti facevi magari un bottino da 300 milioni e rifacevi la squadra tanto non ditemi che buongiorno è arrivato per Conte buongiorno è arrivato perché siamo gli unici che abbiamo potuto mettere dei soldi sul piattino che se no non andava da nessuna parte poi sicuramente Conte avrà influito ma arrivava comunque probabilmente se no si prendeva un altro poi non veniamoci a raccontare che semplicemente che non si aveva Champions non si può fare mercato che pure fare questo che senza la Champions ci sono il 90% delle squadre d'Europa non ha la Champions pure di più fanno tutte mercato pure bene alcune non si capisce perché noi no ma nessuno vuole venire a Napoli ma chiediamoci perché nessuno vuole venire a Napoli perché la Roma non va in Champions prende Dobbic e Sule noi quando non andammo in Champions pure lì c'erano i problemi quando arrivò Spalletti non arriva nessuno nessuno vuole venire perché il Napoli non ha la Champions ma è sempre qua c'è sempre il problema che non c'è la Champions non c'è l'Europa non c'è questo sempre qua ci sono i problemi poi le altre squadre fanno sempre mercato tranquillamente tale e quale sempre riescono a far venire i giocatori non si capisce perché noi siamo gli unici abbiamo sempre i problemi a far venire la gente non si capisce questo su punto 300 milioni e rifacevi la squadra a che è servito sempre la via media sempre il poco coraggio prendi Conte tieni la squadra però quest'anno mi voglio rovinare 100 milioni di tasca mia come budget chi riesco a vendere bene aumenta il budget se no fuori rosa 100 milioni compro Lukaku buongiorno Spinazzola Marin è un centrocampista è McTominay che ora si sta parlando di McTominay è Neres per dire faccio questi acquisti a prescindere 100 milioni di tasca mia mi voglio rovinare andiamo no prendo Conte però la squadra va rifondata mando via tutti tutti dico a Conte se vieni ti faccio la squadra che vuoi tu ma vanno via tutti vanno via tutti cioè veramente vendo Quario Simen ma ti faccio arrivare Bappé per fare un esempio molto esagerato ma per dire cioè veramente ti compro chi ti pare però vendo tutti oppure vendo tutti e prendo anche l'allenatore giovane che tanto sono cose che ci riescono pure prendo l'allenatore Sarri prendo Spalletti che è fermo da qualche anno prendo Mazzarri prendo uno di questi nomi qua rifondo la squadra oppure questa squadra io ci credo prendo un altro allenatore che me la faré no sempre la via di mezzo prendo Conte però tengo questi però puntello però non mi muovo se non vendo quello c'è sempre questo sobraccino cioè sempre questo sobraccino corto sobraccino tirato sempre nella paura di di fare tu un anno hai avuto le palle via Insigne via Mertens via Coulibaly via Fabian Ruiz via Ospina via Goulam via tutti dentro uno dalla Georgia uno dalla Corea Raspadori Simeone e Don Belè vai Scudetto quarti di finale di Champions miglior stagione della nostra storia l'anno dopo sempre il braccino corto e no però non cediamo questo quello lo cediamo perché abbiamo la clausola e però facciamo così colà colà decimo posto perché sempre il braccino tirato a gennaio dai dai gennaio andiamo forti su no vendiamo Elmas prendiamo un gong e e manzocchi andiamo traore e chi è là Eddenbunker che c'è sempre questo questa paura questa a sto punto non che Conte sia il problema per carità anzi è quello che mi fa pensare che almeno ci sarà una che almeno c'è una luce in fondo al tunnel che almeno il progetto però allora tra tre anni devo vedere lo scudetto perché se poi la cosa magari è no però è un progetto lungo ma oggi ha detto ha detto comunque è un progetto lungo e dobbiamo costruire anno zero bla 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 pure Conte ha detto anno zero ho capito quest'anno finiamo decimi undicesimi l'anno prossimo finiamo sesti settimi però il terzo anno primi perché arriviamo poi step by step al terzo anno che abbiamo uno squadrone super collaudato e vinciamo lo scudetto se mi date questa rassicurazione non che vinciamo per carità perché non la può dare nessuno ma che abbiamo una squadra da scudetto e non sempre la squadra in cui l'allenatore deve fare i miracoli deve farci salire di tre quattro cinque posizioni ogni volta e deve col lavoro dell'allenatore arriviamo a quel punto e allora io vi dico ok va bene quest'anno me lo faccio un altro decimo posto con tutta la bile che fuoriesce da ogni orifizio corporeo ma me lo faccio un altro decimo posto se poi mi dite che è un processo ma io non credo nei processi di questa squadra perché ho visto che non siamo capaci di avere dei processi abbiamo dei microcicli ma sono dei microcicli mai conditi da mercati che potenziano sono sempre che ci va bene il primo gruppo e quel gruppo ce lo portiamo avanti per secoli questo è come con Reia Mazzarri primo gruppo Benitez Sarri non c'è l'ottica attuso poi era andato un po' più così è così è il primo Spalletti comunque è un ciclo che è andato bene salvo un anno due questo ciclo è andato benissimo il primo anno malissimo il secondo vediamo mo che ci dirà ma è sempre così non c'è mai un lavoro non c'è mai un lavoro passiamo alle pagelle ma tante pagelle Meret 5 e mezzo posizionato male sul primo gol secondo me è un gol strano il gol è quasi tutta colpa di Juan Jesus che marca l'aria però Meret lo vedevo strano non fa una papera per carità infatti il voto non è bassissimo come gli altri però non lo so secondo me era posizionato male perché era un po' centrale secondo me voleva uscire poi non è più uscito quindi si è trovato un po' in una terra di nessuno anche se quello poi la ci ha battata l'ha messa proprio nell'angolino quindi era pure difficile ma vabbè tranne uno non mi sento di mettere sufficiente onestamente Agesus 0 partita Ciaracmani 3 un altro pure che vabbè Di Lorenzo 2 tutta una partita elogia a Di Lorenzo non capisco Spinazzola 3 impalpabile Lobotka 2 Angissà per me l'unico sufficiente 6 Mazzocchi 2 un giocatore proprio scarso 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 Quara 5 e mezzo è quello che ci prova un po' di più nel primo tempo oltre a Angissà però vabbè Simeone 3 terrificante Politano 3 più pagato della squadra e questo già fa capire tutto Raspadori 0 e questa volta non gli do neanche l'attenuante che non era nel suo ruolo era nel suo ruolo e ha fatto forse anche peggio di quando gioca a Ala o in altri ruoli Olivera 3 Gong 3 che dira 3 e il signor Conte perdi 3 a 0 all'esordio è 0 Speriamo che stasettimana arrivi qualcuno sembra che domani fa le visite Neresh non so quanto venga a risolvere i problemi onestamente anche se è bravo a imbucare più magari se è veramente lui l'erede di Zilischi e Mario Lui nel ruolo di rifinitore e che sa anche puntare l'uomo sa tirare da fuori a qualche gol e assist speriamo che magari giochi ma io non sono troppo sicuro che Politano perde il posto quindi vediamo Gilmour vediamo quando arriva almeno abbiamo un ricambio a centrocampo perché abbiamo poi pure una panchina che avendo fatto fuori tutti cioè noi con la rosa ce l'avremmo pure completa in teoria ma il problema è che quelli che sono sul mercato non si chiede perché non sono proprio neanche convocabili quando le altre squadre magari li convocano se sono in emergenza quindi abbiamo Foloruncio e Gaetano out e quindi si serve almeno arriva Gilmour abbiamo un centrocampista che dovremmo avere Brescianini in questo punto poi siamo riusciti a far saltare un giocatore pure dopo le visite mediche non sono sempre diciamo sempre a valicare i limiti del buonsenso vabbè forza Napoli sempre questo non cambia mai ci vediamo un giocatore